Super Citycar, così si presenta la Renault Twingo Electric, un'auto dall'animo spiccatamente cittadino. L'abbiamo vista sfrecciare per le strade di Roma. Oggi le diamo il benvenuto a Milano. Nata nel 1992, la Renault Twingo non ha mai smesso di rinnovarsi e oggi, al passo con i tempi, arriva in una versione più sostenibile, che sostituisce il tradizionale motore termico a un più moderno powertrain elettrico. Dentro la Twingo Electric troviamo un motore R80 da potenza di 60 kilowatt e 82 cavalli con 160 newton metri di coppia massima. La velocità di punta raggiunge 135 chilometri orari e l'accelerazione da 0 a 50 si raggiunge in appena 4 secondi. Con la nuova versione la Twingo diventa ancora più agile e maneggevole. L'intera struttura è pensata per favorire proprio l'agilità nell'ambito cittadino. Le dimensioni compatte, le ruote posizionate ai quattro angoli, è il motore in posizione posteriore, al punto che l'inversione di marcia si può raggiungere in meno di 9 metri. Gli esterni, come da tradizione, sono giovani e accattivanti. Il paraurti anteriore è scolpito e arricchito da prese d'aria per migliorare la dinamicità. I gruppi ottici LED con firma C-Shape accentano il carattere dinamico e sbarazzino al tempo stesso. Altamente personalizzabile, la Twingo Electric è disponibile in diverse tinte, pack colorati, stripping e cerchi. Una settimana intera senza ricarica. Questo quel che promette la nuova Twingo elettrica, la cui batteria da 22 kWh garantisce un'autonomia fino a 270 km in ciclo WLTP. Dotata di caricatore intelligente e cameleon, può essere ricaricata in casa, in ufficio o alle infrastrutture di ricarica pubblica corrente alternata fino a 22 kW. L'autonomia di 80 km si raggiunge in circa mezz'ora. Così come gli esterni, anche gli interni sono altamente personalizzabili e disponibili in diversi pack e colori. A dominare lo spazioso abitacolo è un display touchscreen da 7 pollici, dotato del Renault Easy Link, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il sistema di connettività fornisce informazioni in tempo reale su traffico, meteo e punti di interesse nelle vicinanze. Alle funzionalità Easy Link si aggiungono poi funzionalità riservate ai veicoli elettrici, come la possibilità di programmare la ricarica o presto tramite app MyRenault anche di pagare le infrastrutture di ricarica pubbliche. Progettata per molteplici motorizzazioni, la Twingo Electric offre la stessa abitabilità delle versioni termiche, 5 porte, pianale piatto e sedile del passeggero completamente reclinabile per una lunghezza di carico pari a 2,31 metri. Invariato anche il volume del bagagliaio che si attesta attorno ai 240 litri. Se mi vedete così rilassata alla guida è grazie alla modalità B-Mod che si adatta alle condizioni di traffico e delle strade percorse. Tramite la leva del cambio è possibile azionare tre diversi livelli B1, B2 o B3. Il livello più soft lascia che l'auto proceda quasi per inerzia senza perdere di slancio. Quello intermedio induce una leggera decelerazione, mentre il livello più estremo diminuendo l'utilizzo del freno agevola di molto la guida cittadina. Vado a provarli tutti! Il Renault Twingo Electric che abbiamo provato con allestimento Vibes è disponibile a partire da 24.350 euro, mentre per le aziende è noleggiabile per 48 mesi e 80.000 km a un canone mensile di 249 euro più IVA con anticipo di 1.050 euro.